Ciao ragazzi! Io sono... sono Nelon e oggi siamo su Melon... no, non siamo su Melon brigando, ma oggi siamo su Roblox Brocaven... Brocaven, 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 Brocaven... E oggi andiamo a fare una cosa bellissima perché questo gioco non ci ho mai giocato e mi sono iniziato a fare un po' di skin e quindi vi piace la mia skin, guardate, è proprio bello, però voglio usare queste cose, tipo voglio mettere questo, verde e posso mettere pure la velocità 35, quindi andiamo... perché ragazzi, chi non lo sa, mandatevi l'amicizio su Roblox, mi chiamo Melon Playground cioè mi chiamo Playground 150 perché così faccio capire che è una... è una stagione... che non è andato a seguire la mia serie Netflix che ha pubblicato William, è ritornata finalmente la mia serie Netflix, andatela a vedere perché io ci tengo tanto, quindi andatela a vedere, però... voglio fare una casa, cioè... sentite che in questo gioco si possono fare le case, quindi io me la faccio... me la faccio, me la faccio verde, verde, ovviamente... è verde, se no che colore me la farei... mamma mia... mamma mia però... eh... allora voglio entrare in questa... nella... nella casa mia... eh... ma che cosa... ehi... ehi... sono Melon Playground... sono Melon Playground... sono Melon Playground... sono Melon Playground... ma che... ma che cavolo... dove sono finite... oh... fuori... fuori... sto registrando... oh... cavolo... vabbè ragazzi... voi... lasciate like... e iscrivetevi al canale... perché ragazzi... dobbiamo arrivare a cento... a mille iscritti... però piano piano... ci nascondiamo... ci nascondiamo... perfetti così le... le spiamo... facciamo piano... piano piano... ok ok... ok... vai, 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 vai vai... buu ragazzi... lasciate like e iscrivetevi al canale... per favore... afitana per me...afitana per me... aaah... no...no... aiuto... okay no no aiuto 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 per me devo salvare questo outfit melon mi chiamo melon ma che cavolo ma che cos'è ma che va bene ok allora ragazzi però quello che dobbiamo fare è che io non so come funziona questo gioco quindi dobbiamo mettere una moto ok posso mettere color verde si posso metterlo che che vuole questo ehi scendi william ci sapeva giocare a questo gioco ma io non vediamo andiamo andiamo da questa parte si allora allora qua vedo che c'è una campagna una fattoria qualcosa non lo so però l'importante è che io voglio scoprire alcune cose poi alcuni mettono una casa e vanno su un posto dove c'è una casa dove è questo posto dove c'è la casa oh che cos'è cos'è non devo vedere eh perchè dov'è eh perchè dov'è eh perchè dov'è e non lo vado che cos'è wow ci hanno aggiunto una nuova cosa poi non mi ha dato che avevano aggiunto una nuova cosa mi pare che è questo ehi Ung陪 lotta beh sono caduto oh e no i miei capelli i miei capelli i miei capelli verdi cavolo no speriamo che il video vi sia piaciuto ragazzi anzi non voglio finire speriamo che il video vi sia piaciuto like se devo fare video con altri o se non altri devono fare video su Roblox ciao